E' pronto per l'annuncio alla gente? Che devi fare? Devi cantare? Devi dire qualcosa? Eh, cantiamo un po' adesso, no? Dobbiamo caricare un po' l'ambiente qua. Allora no! Siamo! Ok, ok. Sì, no, Materazzi ha cambiato ruolo in un attimo, io non so esattamente che cosa aveva intenzione di fare, ma sì, lasciamo l'audio, sentiamo. Siamo là! Siamo là! Tutto lo stadio! Va bene, io non so come definire questa versione di Materazzi, Rockstar, Cabo Popolo, comunque Materazzi...